Tra i fioritti del drammatico incidente che ha coinvolto un autobus in Irpinia ci sono anche diversi bambini. Due di loro in particolare sono in condizioni gravissime, come spiega il dottor Carlo Maranelli, direttore medico di presidio dell'ospedale Santo Buono di Napoli. Due di questi bambini, un maschietto e una femminuccia, sono in rianimazione in prognosi riservata. Una di queste è stata anche sottoposta a intervento chirurgico stanotte per una frattura infossata e per un'emorragia. Questa è invece la situazione di altri tre piccoli fioriti. Per quanto riguarda gli altri tre bambini, sono ricoverati due in neurochirurgia con fratture, traumi cranici entrambi, però fratture di tibie perone per una bimba che sarà poi trattata dall'ortopedico e invece l'altra bimba è ricoverata in chirurgia d'urgenza. La gravità dell'incidente si capisce poi da un'altra osservazione del dottor Maranelli e eravamo pronti per ricevere molti più fioriti, ha concluso, ma purtroppo non sono arrivati. Grazie.